eccoci di nuovo si continua questo torneo a squadre purtroppo la squadra ha messa male siamo in penultima posizione le ultime tre scendono retrocedono nella serie inferiore e quindi devo cercare di accelerare e per accelerare magari le prossime partite giocherò quella che si chiama modalità berserk quindi metto a rischio i miei punti il mio tempo per giocare qualcosa di creativo e qualche turno fa ho giocato contro di lui ho giocato contro questo avversario di nome matt man che vediamo rapidamente la partita che è stata una siciliana dove c'è un rientro nell'apertura alapin c3 e qui è giocato una linea dubbia che lui non ha cercato di approfondire perché dubbia nell'alapin quando il bianco può fare d5 con facilità dovrebbe farlo quasi sempre ottiene un buon gioco in questo caso avrebbe potuto giocare d5 seguita dai 5 e allora lì paura errore di 6 sulla scacchiera così se arriva a d5 me ne vado e sicuramente non mi arriverà ai 5 accelerò lo sviluppo lui arroccherà io arroccherò noi arroccheremo e voi arroccherete allora scherzi a parte in questa posizione il bianco al controllo totale del centro come vedete io sono un po timido con un pedone sulla sesta traversa che ancora ha difficoltà a controllare posizioni centrali questo alfiere ha un ruolo importante in realtà sarebbe fantastico portarlo su questa diagonale però potrebbe richiedere parecchie mosse e anche quando io ho questo schema tipo a6 b5 lui potrebbe chiudere con d5 e allora l'alfiere decido di portarlo in g4 con l'idea di rimuoverlo considerando che era un pezzo che poteva dare un po di intraccio nel mio sviluppo e allora quando lui mi attaccherà io sono disposto a cambiarlo l'alfiere lascia la casa libera alla torre che si posiziona su una colonna libera e adesso che mi ha attaccato glielo cambio più lentieri e la partita adesso deve prendere una direttiva un seguito l'idea è cercare di giocare sulle case nere perché io ho la presenza di quest'alfiere lungo la diagonale quindi vediamo un po' come potrei cercare di creare questo gioco intanto gioco a6 tipica mossa che nella siciliana va sempre bene magari in alcuni casi potrebbe preparare questa qui b5 come annunciavo la manovra cavallo a5 cavallo c4 anch'essa tematica dell'apertura siciliana potrebbe essere una buona idea un buon seguito un cavallo in c4 come vedete immediatamente darebbe noia all'alfiere di case nere avversario e a quel punto b2 dunque cavallo a5 e cavallo c4 è il piano che cerco di adottare in questo momento spesso durante il corso della partita il cavallo si sposta al lato perché vuole ripiegare verso il centro chiaramente se spostate il cavallo al lato e poi lo lasciate al bordo della scacchiera la vostra strategia sicuramente non è stata corretta corretta la partita prosegue ok questo punto direi che posso catturare quello è un pedone che quando i miei calcoli lascia presto la scacchiera perché non dovrebbe essere in grado di difenderlo abbastanza e mi cambia la torre la cattura necessaria e dovuta però qui pensavo cavallo d7 interrogando questo pedone che è attaccato due volte scelta corretta per lui perché se questo è un pedone possiamo difendere almeno che lo diamo in una condizione dove magari rovino la struttura pedonale avversaria dove ho qualcosa di concreto dire g4 vuole prendere questo pedone però io avevo previsto cavallo e5 che tiene tutto cavallo e5 vuole rimuovere l'attaccante della mia debolezza quel pedone in e6 è molto noioso arrivano le semplificazioni cavallo per g4 cavallo c4 spero che lui mi può prendere qui pazienza e io inizio a cambiare pezzi per entrare in un finale che considero superiore vediamo chi avrà ragione mi cambia cambio mi prende di cavallo e come dicevo prima intuivo che questa posizione mi potesse portare a un finale superiore perché quello che stavo immaginando era semplicemente il cambio del mio cavallo su quell'alfiere dopo la ripresa il cambio delle torri per poi attivare il mio alfiere lungo la diagonale e zamparmi catturare anche il pedone b2 a questo punto il parziale dice 5 pedoni neri 4 pedoni bianchi con una particolare attenzione anche su quest'altro pedone adesso entra un po la fase di calcolo perché io devo vedere se questo mio pedone è spinto è in grado di promuovere senza il supporto dell'alfiere però ricordate che in tutti i finali ciò che fa la differenza l'attività del nostro re quindi se io spingessi subito il pedone se io spingo qui lui porta il cavallo indietro mi blocca il fiere resta fuori gioco probabilmente nonostante abbia un pedone in più magari sto peggio e allora cerco di portare il re in gioco nei finali non bisogna assolutamente avere fretta questa mossa che in realtà avrei dovuto giocare prima è una mossa fantastica perché crea quella tipica configurazione in cui un alfiere domina un cavallo come vedete quel cavallo non si sposta più dal bordo della scacchiera perché avrei dovuto giocarla prima perché quando io gioco l'istintiva ref7 lui ritorna in gioco il finale sarebbe comunque vantaggioso probabilmente perso per lui però così molto più facile per me adesso che lui gioca con un pezzo in meno io faccio un po quello che mi pare quindi porto cerco di conquistare spazio poi in realtà potrei portare anche il re verso questo questo cavallo potrei fare tante cose tanto h4 fissiamo questi due pedoni e ci sarà un momento dove lui è costretto a far qualcosa ok decide di cedermi un pedone centrale lo ringrazio lo catturo e ripropongo esattamente lo stesso tema di prima quindi alfiere di 6 e poi mi sposto adesso il mio re si dirige verso quei pedoni e quando lui sposterà il cavallo io glielo cambio io lo mangio che potrebbe voler dire aver guadagnato un cavallo oppure semplicemente cambiarlo come vedete questa configurazione è quella che ha portato il nero quindi il sottoscritto a vincere un finale in modo molto elementare catturo il pedone g catturerò alla prossima il pedone h e mi aspetto da parte di matman un abbandono ok abbandono che non arriva e allora miglioro la mia posizione vedete in realtà posso fare un po quello che voglio proprio perché ho una situazione parecchio favorevole adesso c'è anche un tema di matto guardate che bello scacco lui si sposta dovrebbe andare davanti a quel pedone in quel caso mi metto davanti gli creo una situazione di stallo se non fosse che lui dovrà muovere quel cavallo per poi subire il matto ok è venuta fuori una bella partita il torneo è quasi la conclusione appuntamento domani con un nuovo video ciao a tutti